Cioè, ha perso completamente la memoria? Sì, sì, però diciamo che suo fratello è stato molto fortunato. Guardi che l'incidente è stato brutto, ma l'è uscito il peso e sta meglio. Il trauma cranico è stato molto forte e quindi lui al momento non ricorda nulla. Ma nulla, nulla? Nulla, nulla, no. Diciamo che lui è come se fosse adesso un bambino di quattro anni. Fisicamente sta molto bene e per questo non abbiamo più motivo di tenerlo qui. E lo dobbiamo dimettere. Ottimo, quando ve lo portate? Vede, lui adesso ha bisogno di molta calma. Martedì ci sarà l'udienza e dopo la perizia medica si deciderà se affidarlo a un amministratore regale. Per cui adesso portatevelo a casa, passate buon weekend. Benissimo, portatevelo a casa, passate buon weekend. Grazie dottore. Il dottore ha detto a te. No, 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 portatevelo, plurale. No, tu e Stella, portatevelo. No, il dottore è meridionale, usa il voi, ha detto a te. Va bene, per qualsiasi cosa io sono a vostra completa disposizione. Grazie dottore, arrivederci. Meridionale.